quando si vota la legge elettorale e abbiamo la risposta che i nostri capigruppo hanno spiegato in tutte le consultazioni e cioè si vota entro la prima settimana di luglio. Ah ma siete contenti della legge elettorale che si sta profilando? No, non è la mia legge elettorale, non è la nostra legge elettorale, però a questo punto facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti così ci capiamo perché altrimenti uno che viene da Marte dice mamma mia che è successo? Abbiamo perso il referendum come forse qualcuno di voi in modo impercettibile si è accorto. La sconfitta del referendum è una sconfitta della quale mi sono assunto tutte le responsabilità quindi non gioco certo a nascondino ma è una sconfitta che segna a lungo la dinamica istituzionale di questo paese. Il Presidente della Repubblica nel corso di un appuntamento istituzionale con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato qualche giorno prima della conclusione delle nostre primarie ha spiegato con molta chiarezza che il Parlamento aveva il dovere di mettere mano alla legge elettorale. Lo dico ai millennials, nell'ordinamento italiano gli appelli del Presidente della Repubblica per i partiti seri sono degli impegni non sono delle invocazioni sono degli obiettivi ragazzi non sono delle parole di libertà ciò che vi deve caratterizzare che ci deve caratterizzare come partito serio e pezzo delle istituzioni di questo paese è che quando il Presidente della Repubblica Supremo Garante dell'Unità Nazionale rivolge un appello alle forze politiche questo appello i partiti seri lo prendono sul serio. Noi abbiamo fatto così in questa legislatura quando il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel momento in cui giurava di fronte alle Camere riunite in forma solenne dopo la rielezione diceva le parole che tutte e tutti noi non possiamo dimenticare sulla necessità della riforma istituzionale e costituzionale abbiamo preso sul serio quelle parole e questa legislatura ha fatto ciò che quell'appello evocava e richiamava poi sappiamo che quel percorso si è interrotto con il voto del 4 dicembre e allora lì abbiamo detto saranno in grado le forze politiche che hanno detto no saranno in grado di offrire un'alternativa al nostro paese per riuscire finalmente a individuare una legge elettorale queste forze politiche hanno prodotto una proposta la banale semplificazione per cui questo è un inciucio Renzi Berlusconi è talmente stancante da aver perso anche l'elemento di divertimento che aveva all'inizio voi sapete che all'inizio il tema è l'anno pari fanno l'inciucio l'anno dispari rompono l'anno pari fanno l'inciucio l'anno dispari rompono noi siamo stati accusati pensate un po che cosa meravigliosa prima di aver fatto l'inciucio poi di averlo rotto e contemporaneamente siamo riusciti ad essere accusati dalle stesse persone dell'uno e dell'altra cosa suprema forma di eclettismo dell'anima perché riuscire ad arrivare al punto di sentirsi dire l'una e l'altra cosa allo stesso momento è francamente straordinario però dobbiamo prendere atto che c'è una significativa convergenza di forza italia del movimento 5 stelle dei partiti o di un partito della sinistra radicale guidato da nicola fratoianni fino alla lega per avere un sistema che è il sistema mutuato dall'esperienza tedesca sì è vero nell'esperienza tedesca ci sono i seggi sovrannumerari e ciò richiederebbe una riforma costituzionale e se mi permettete non parlate di riforma costituzionale a me per i prossimi decenni ma il punto qualificante è che il sistema proporzionale col 5 per cento di sbarramento elemento inamovibile del sistema tedesco elemento inamovibile del sistema tedesco e per chi magari fosse si fosse collegato soltanto adesso in streaming elemento inamovibile del sistema tedesco l'applauso per quelli che si sono collegati in streaming accanto al 5 per cento del del soglia di sbarramento deve avere un altro elemento chiave la scheda deve avere i nomi se io voglio votare pd e il candidato è emiliano così diamo subito un segnale di apertura e decido di votare emiliano per me il punto chiave che il nome ci sia scritto possibilmente bello grosso poi questo è un problema grafico perché devo capire dove metto il voto perché non è stato così con il porcello non è stato così tant'è vero che ci sono alcuni bravissimi parlamentari che svolgono un lavoro egregio a cui va tutta la mia stima che sono entrati ma che gli elettori di una certa regione neanche sanno che sono di quella regione allora i due elementi cardine del sistema tedesco per noi devono essere mantenuti il nome scritto sulla scheda perché elemento di riconoscibilità e di rapporto tra cittadino e politico tra elettore ed eletto o elettore candidato più correttamente e il 5 per cento se c'è questo si pone un fatto politico io vi ho detto che questa non è la mia legge elettorale ma vi dico anche con altrettanta franchezza che noi abbiamo scelto la strada della responsabilità da tempo lo abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo deciso di proseguire la legislatura nella situazione in cui c'era poi verrò ad alcune parole circa il nostro rapporto con il governo ma il punto chiave e qualificante del sistema tedesco è che noi siamo di fronte al bivio di accettare una soluzione che ci porta a un modello europeo che porta a una pacificazione istituzionale perché l'ottanta per cento dei partiti accettano questo modello vogliono questo modello desiderano questo modello meglio delle forze parlamentari più che dei partiti e porta il paese a uno sviluppo a un ordinato svolgimento del passaggio elettorale senza forzature io credo che ci siano dei momenti in cui si debba avere rispetto per le regole del gioco al punto da farsi carico anche non condividendo fino in fondo delle cose che chiedono gli altri grazie